Torna il Festival Euro Mediterraneo di Altomonte giunto alla 34esima edizione incentrata sulla costruzione di un festival del futuro e lo farà dando vita a un grande cantiere culturale, teatro, danza, scrittura, cinema, musica e molto altro. Il programma completo è stato presentato in conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune di Altomonte alla quale hanno partecipato oltre al sindaco Gian Pietro Coppola, l'assessore alla cultura Elvira Berlingeri, l'assessore al turismo Mario Pancaro, il direttore artistico Antonio Blandi, l'attore Ettore Bassi e il direttore del Plautus Festival di Sarsina Cristiano Roccamo. Come dice l'incipit del nostro festival, solo chi osa può volare e quindi Altomonte con le sue forze parte per una stagione culturale che sia anche un momento di ripartenza, di ricrescita, di ripresa, di speranza e di apertura al post-covid. Abbiamo voluto dare questa indicazione perché è stato difficile capire se era o meno possibile andare avanti con il festival. La 34esima edizione significava interrompere un'iniziativa che negli anni si era ripetuta ad Altomonte. Il cartellone è molto ampio, dal 12 agosto al 25 agosto e mancano anche delle date che sono in via di definizione. Ce n'è una importante da ricordare che è il trio di Andrea Millace che si esibirà nella famosa piazza di Santa Maria della Consolazione, terrazza naturale, sul borgo di Altomonte. Adesso cominciamo con la prima parte, poi ci sarà il festival e proprio a settembre. Il tema è importante, vola, chi osa farlo? Lui Sepulveda da questa frase parte l'essenza dell'evento di quest'anno che chiaramente parte dall'idea di voler in qualche modo recuperare il sogno e la voglia di costruire progetti culturali. Per due anni siamo stati fermi, forse ancora non ne siamo fuori, però dobbiamo riprendere a sognare e a costruire progetti culturali perché la cultura rappresenta un elemento importante che ci consente di immaginare un futuro migliore e di costruire un futuro migliore. Questo è un festival ed è un luogo dove si fa cultura e lo si fa con la C maiuscola, per cui è un onore essere qui e essere stato invitato a rappresentare poi questo slancio e questo desiderio, questo amore per la cultura che Altomonte mette all'interno di questo festival da così tanti anni.